ciao a tutte ben ritrovate sul mio canale oggi video dei prodotti preferiti preferiti del mese di marzo ho qui un po di prodotti da farvi vedere qualcosa ovviamente l'avete vista nei miei video e quindi magari non mi soffermerò tantissimo quindi direi che possiamo partire subitissimo aperto da due profumi che ho utilizzato davvero tantissimo stavo anche pensando di farvi un video sui prodotti sui profumi che utilizzo che ho io nella mia collezione che rientrano tra tra i miei preferiti quindi fatemi sapere se vi può interessare e lo realizzo e vi faccio vedere subitissimo questo di michael kors questo qua questo profumo è buonissimo io non sono bravissima a diciamo a come dire a descrivere un profumo rimane piuttosto intenso floreale piacevolissimo si sente perché un profumo che non come dire non passa inosservato assolutamente è uno tra i preferiti anche di mio marito quindi lo indosso anche più volentieri è fantastico magari trovo qualche nota scritta su sulle caratteristiche di questo profumo ve le lascio scritte o qua oppure giù nell'infobox poi un altro profumo per me fantastico la seconda volta che lo riacquisto sto parlando di questo di Ghirlà questo è Mon Ghirlà Eau de Parfum ed è quello floreale ecco questo è da 50 ml fantastico questo profumo è tra i miei preferiti anche lui appunto floreale molto dolce persistente rimane davvero tanto sulla pelle sugli indumenti anche questo non passa inosservato e insomma ricevo tantissimi complimenti ogni volta che lo indosso mi piace mi rappresenta davvero tantissimo questo è Mon Ghirlà bellissimo io ho una adoro i profumi le acque profumate impazzisco insomma poi voglio farvi vedere uno un pennello preferito adesso io questo l'ho utilizzato lavato rimesso nella confezione perché perché carinissima e perché volevo farvi vedere appunto come era arrivato questo pennello della it cosmetics questo pennello per chi mi segue da un po c'è più che altro per le amiche di makeup che con cui mi sento oltre i social io ho desiderato tantissimo questo pennello che è doppio per appunto applicare il fondotinta e il correttore io mi trovo stra stra bene quando lo utilizzo con alcuni di fondotinta adesso ve ne faccio vedere uno diciamo che quella questa combo mi piace davvero tantissimo trovo che sia un pennello fantastico è un pennello che costa io l'ho preso sul sito di cult beauty se non sbaglio è morbidissimo si lava ritorna perfetto pulitissimo la stesura del fondotinta è qualcosa di meraviglioso è davvero fantastico io l'avevo visto la prima volta su in un video di una americana che seguo da tantissimo ve la lascio scritta qua dovrebbe essere sona gaspa e qualcosa mi ricordo bene il nome non riusciva a capire che pennello fosse ho fatto il fermo immagine lo zoom sono diventata matta per sapere cos'era poi l'ho visto nel canale di mister daniel e quindi subito ho detto tra l'altro rientra tra i suoi preferiti e aveva veramente ragione veramente un ottimo pennello fantastico poi doppio quindi proprio praticissimo e dicevo visto che ci siamo fondotinta preferito del periodo questo è il touche cla all in one glow foundation io ce l'ho in colorazione b30 e questo fondotinta fatto così con l'erogatore in questo modo praticissimo è una confezione classica di 30 ml dalla data di apertura a una scadenza di 12 mesi ed è un fondotinta io adesso ve lo faccio vedere qua per farvi vedere la colorazione perché può essere una cosa importante per chi ha più o meno i miei stessi colori questa è la consistenza è un fondotinta che ha per lo più è a base d'acqua quindi leggerissimo molto confortevole non ha una coprezza altissima ecco è una coprenza leggera media a me piace davvero tantissimo adesso sentendo l'odore può passato la salvietta ed è andato via ottimo profumo infatti me lo ricordavo che per me è molto importante io adoro i profumi che mi piacciono che si sentono ed è un ottimo fondotinta idratante sulla mia pelle mista va bene credo che vada bene anche per una pelle che è tendente un po al secco dura molto bene durante la giornata io come sempre devo fissare il tutto con la cipria perché se no tendo a lucidare facilmente durante la giornata però è un fondotinta che uso molto volentieri durante la settimana anche quando vado un po di fretta si stende benissimo e questa combo per me è fantastica io li utilizzo molto molto spesso insieme e mi trovo davvero benissimo poi primer occhi preferito del periodo è questo di smashbox il 24 ore photo finish questo primer che mi avete visto utilizzare si presenta così color beige rosa permette agli ombretti di durare tutto il giorno non vi fanno scherzetti sulla sulla piega e appunto rimangono perfetti belli intensi tutto il giorno io amo follemente questo primer è sempre di primer questo mese ho utilizzato parecchio anche questo questo è sempre fa parte della famiglia dei photo finish questo è un primer specifico per la zona del contorno occhi permette al correttore di scivolare molto bene quindi prepara la zona la spiana per bene e permette appunto al correttore di rimanere perfetto per per tutto il giorno quindi quando voglio una base perfetta applico prima di tutto questo e quindi davvero ottimo è un 10 ml e ha una scadenza di 12 mesi credo io e la mia lente di ingrandimento vi confermiamo che no bugia sei mesi vedete che la mia lente fa sempre il suo dovere ecco quindi sei mesi come un classico primer occhi ecco poi passiamo alla cipria la cipria che per me questo mese è stato veramente un salvavita e questo devo ringraziare simona e sciana del su instagram la trovate appunto così lei la colpevole di questa cipria di mac che la blot blot powder press in colorazione medium questa cipria fantastica opacizzante ho fatto un piccolo qui ho scavato con con l'unghia va bene è fantastica una cipria piuttosto leggera setta molto molto bene tutto tutto il viso una tenuta pazzesca ecco vela vela straconsiglio se avete come me la zona t che si lucida velocemente come copertura non è non è eccessiva non è una cipria che si sente io diciamo che la devo comunque riapplicare quando ho un trucco che che mi deve durare fino a sera quindi nel pomeriggio ritocco un attimino non fa spessore quindi è perfetta ve la straconsiglio se cercate una cipria opacizzante poi vado avanti con con le sopracciglia un prodotto per me fantastico è questo brow pot di anastasia allora su qui da noi finalmente hanno messo lo stand da sephora quindi finalmente ho potuto vedere e toccare con mano questi prodotti avevo a suo tempo preso qualcosa online ma avevo scelto una colorazione molto scura e quindi mi creava questa sorta di ciglio molto molto arrabbiato ecco e per cui sono andata con una colorazione più 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 leggera più chiara e ho preso la dark brown che è quella che ho utilizzato anche oggi per il trucco di oggi che ovviamente vi lascio linkato qua giù ed è proprio questo colore per me fantastico questa è una pomade credo che si chiami così sì quindi per le sopracciglia la durata è pazzesca io non devo fare un ritocco durante il giorno da mattina che mi trucco alle 8 mi strucco anche a volte alle 10 lui rimane perfetto non si sposta ottimo davvero ottimo ottimo io adoro questi prodotti per le sopracciglia e appunto questo è uno sempre di anastasia vi faccio vedere un preferito che è questa terra che ho preso sempre il giorno famoso che ho preso la pomade ho preso questa colorazione che si chiama Tony credo che si pronunci così ma intanto comunque ve lo lascio scritto un di evitare figuracce ed è questa terra fantastica che regala subito un colorito fantastico ve la faccio vedere ve la farò vedere molto presto all'opera e questa polvere finissima impercettibile ma regala subito un incarnato radioso bella come tutte le polveri di anastasia fantastica poi poi andiamo avanti vi faccio vedere una matita per me fantastica una preferita questa numero 88 di Chanel la stilo waterproof una matita nera intensa che ha una durata pazzesca io adoro queste matite mi piacciono davvero tantissimo so che anche a molte di voi piacciono ed è questo nero che ho utilizzato anche oggi lo utilizzo moltissimo per sostituire l'eyeliner all'interno dell'occhio è perfetta fa davvero un lavoro eccezionale io mi trovo davvero stra bene mascara questo è un regalo di Lisa grazie mille lei mi ha regalato questo mascara nuovo di puro bio lui si chiama double dream stra stra pubblicizzato è un mascara fantastico è fatto così con questi dentini che sembrano diciamo potrebbero essere anche pericolosi è un mascara fantastico ecco l'unica cosa che come partite diciamo dalla base rischiate un attimino di farvi male perché hanno proprio questi dentini infatti non so se si riesce a vedere sembrano proprio delle puntine ma vi permette di acchiappare anche la ciglia più piccolina è fantastico io ho fatto anche un mini video su instagram per chi ancora non mi segue non va bene dovete subito provvedere a seguirmi io sono micchi 74a tutto minuscolo e ve lo lascio scritto anche qua giù comunque ho fatto questo mini video per farvi vedere l'applicazione io di solito faccio sempre due passate non di più con questo devo farne almeno una terza non fa spessore non si sposta non non va a finire sotto non si sgrettola si strucca benissimo ed è appunto un mascara bio quindi se avete anche problemi insomma vi lacrimano gli occhi anche per mia sorella robbi se mi stai guardando questo mascara fa apposta al caso tuo è perfetto anche se tu non hai bisogno di mascara peggio di me mia sorella con le ciglia così ed è fantastico io l'adoro grazie mille elisa per avermelo regalato era una cosa che ero curiosa di provare e lei deve avermi letto nel pensiero come sempre andiamo avanti vi faccio vedere tre palette che per me sono state fondamentali vi faccio vedere questa di Dior che fa parte della linea Dior Backstage questa si chiama Amber Neutral ed è la numero 003 vi ho fatto anche il video che vi lascio linkato qua giù io adoro queste palette sono palette a nove colori pratiche per tutti i giorni per un trucco molto naturale per uno smokey eye un allo smoke insomma potete davvero sbizzarrirvi hanno cioè le polveri di Dior soprattutto queste della Dior Backstage sono polveri molto molto performanti si sfumano che è una bellezza pigmentate al punto giusto dico io sono veramente fantastiche e questa in particolare secondo me è proprio top da avere assolutamente bellissima un'altra palette che per me è il cuore è questa di Charlotte Tilbury io non so se avete capito ho fatto una marea di video su Charlotte marea non tanto però tanti video su Charlotte Instagram è piena di mie foto con i prodotti di Charlotte Tilbury che è un brand che io amo follemente questa è De Dolce Vita questa luxury palette a quattro colori anche di questo ho fatto il video ve lo lascio linkato giù spero di ricordarmi tutti i link fantastica anche questa per tutti i giorni per un look bello intenso fate subito un look in 3 2 1 via ecco io la uso anche per andare a lavorare non mi interessa sarei proprio molto come dire molto leggera però quando mi trucco spesso vado a recuperare lei fantastica io la amo follemente e poi come non nominare lei la Tarte vi è piaciuta tantissimo e vi ringrazio di cuore per il sostegno che mi avete dato sotto il video dove utilizzo questa palette per la prima volta questa è la Tarte palette è la fantastica è la Rainforest of the Sea questa palette che grida mare Sardegna insomma è fantastica anche di questo ho fatto il video ovviamente vi è piaciuto tantissimo ma io ho ricevuto tanti complimenti come sotto quella foto sulle stories insomma davvero vi è piaciuta tantissimo e penso che la utilizzerò anche per altri look se siete d'accordo questa la trovate già disponibile sul sito di Sephora io l'ho presa in anteprima quindi passiamo alle labbra vi faccio vedere un nude che per me è fantastico si chiama Blushing Dream è di Charlotte Tilbury ed è questo rossetto cremoso lucente bello luminoso questo orologio che mi dà un fastidio è bellissimo io lo adoro anche da solo oppure sopra una matita o come top coat per un come top per un rossetto io lo amo follemente e poi passiamo a un set che mi è piaciuto tantissimo ho messo le foto su Instagram è questo Red Lip Selection un kit a parte la confezione che terrò sicuramente e vi faccio vedere subitissimo contiene 5 prodotti labbra sono 4 in full size più una mini size ed è sta ancora sul sito di Sephora a un prezzo molto molto vantaggioso 29,90 se non sbaglio ed è un kit di prodotti che presi singolarmente si aggira intorno ai 70 euro quindi ottimo per provare questi brand per insomma se siete amanti del rosso io adesso ve li faccio vedere ma vi metto anche qua diciamo a seguito gli swatch e l'applicazione sulle labbra li ho indossati e scattato delle foto vi sono piaciute davvero tantissimo abbiamo questo di Sephora vi metto appunto il nome questo è un Rouge Velouté Brillant è un Lip Shine che vi lascio appunto scritto qua il nome poi la foto la vedrete qua al lato stupendo poi abbiamo della Make Up For Ever questo che fa parte degli artist liquid matte bellissimo anche lui ognuno ha poi una come si dice una texture diversa sono sembrano simili però sono ognuno ha il suo particolare anche qua vedrete la foto poi la mini size di questo di Kat Von D che è stato stravotato su Instagram e poi abbiamo la combo di matita labbra di Huda Beauty la matita si chiama Hair Break una cosa del genere credo che si pronunci così ma tanto è scritto qua giù è il rossetto liquido e liquid matte questa matita si abbina stra bene a tutti i rossetti quindi fantastico non avete bisogno di prendere altre matite questa si abbina perfettamente a tutte io l'ho provata quindi stra approvata la scatolina è fatta così al suo interno che io otterrò molto con piacere mi piace davvero tantissimo l'ultimo prodotto poi vi saluto che vi faccio vedere è la piastra la spazzola lisciante GHD la glide che io adesso vado a prendere qua l'ho messa comodamente in una pochette che avevo anche di questa ho fatto il video recensione ve la faccio anche vedere all'opera questa spazzola lisciante fantastica per me ormai è la vita io uso solo lei anche oggi ho fatto questo mosso che è un pochino andato così perché la giornata non è delle migliori quindi purtroppo i miei capelli essendo ricci poi subiscono le variazioni del tempo però insomma io la amo follemente l'ho presa fortunatamente sul sito di Sephora profittando di un 20% non lo so se adesso la trovate ancora disponibile però se guardate su internet insomma avete la possibilità anche di prenotarla magari riceverla un po' più avanti però ve la straconsiglio se come me amate il liscio ma non effetto piastra spaghetto questo è più un liscio barra mosso e quindi fantastica io l'amo follemente eccoci qua arrivati alla conclusione spero di avervi tenuto compagnia di avervi fatto vedere qualche prodottino interessante e quindi Grazie a tutti